L'opinionista di Uomini e Donne si è sfogato in una Instagram Stories nelle ultime ore. Che cosa è successo? Che parole ha usato per raccontare la disavventura? Gianni Sperti è uno degli storici opinionisti di Uomini e Donne, il programma di successo di Maria De Filippi inonda da oltre 20 anni sulle reti Mediaset nella fascia pomeridiana. L'ex ballerino è una delle presenze fisse in studio insieme all'altra opinionista Tina Cipollari. Ma che cosa è successo nelle ultime ore? Perché Gianni Sperti si è sfogato duramente attraverso le sue Instagram Stories? Ecco il racconto della sua disavventura. Gianni Sperti è il racconto esasperato. Gianni Sperti è nato in Puglia a Manduri al 12 aprile del 1973. I suoi primi passi nel mondo dello spettacolo sono avvenuti negli anni 90 all'assai l'ultima. Nel 1995 e in altre trasmissioni come Buona Domenica. Gianni Sperti è un ballerino di ottimo livello, ma nel corso degli anni ha deciso di abbandonare la sua passione, a causa di alcune cose di quel mondo che non ha mandato giù. Dal 2003, come detto, è lo storico opinionista di Uomini e Donne insieme a Tina Cipollari. Il suo volto è molto conosciuto fra gli appassionati della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Ma che cosa ha rivelato su Instagram nelle ultime ore? Perché si è sfogato duramente? Lo sfogo, Gianni Sperti negli ultimi giorni sta trascorrendo le sue vacanze estive in Egitto. Come sempre, è molto attivo sui social e in particolare su Instagram. Qui ha raccontato tutte le vicende che ha vissuto nel paese africano, comprese anche le disavventure in aeroporto. Infatti, al suo arrivo nel paese delle piramidi è stato vittima di un episodio non particolarmente fortunato. L'opinionista di Uomini e Donne ha smarrito le valigie al suo arrivo e ha confessato di aver trascorso alcuni giorni senza niente. Il racconto di questa disavventura era stato fatto da Gianni in modo del tutto ironico e sarcastico. Ma nelle ultime ore la disavventura della perdita del bagaglio è avvenuta nuovamente, durante il trasferimento dal Cairo a Luxor. L'ex ballerino si è sfogato duramente nelle sue Instagram Stories, la chiameremo, la maledizione del Nilo. Questa mattina ho preso un volo dal Cairo destinazione Luxor. Potete immaginare la paura che avevo imbarcare il bagaglio. Paura fondata perché il mio bagaglio non è arrivato. La compagnia è sempre la stessa, Egipter con la quale non viaggerò mai più. Fortunatamente questa volta ho portato con me la macchina fotografica. Ho viaggiato tanto, molti di voi lo sanno perché mi seguite, e non mi è mai successo.